Cresi G Il suo corpo è stato sottoposto a un trattamento con endorfine. Ogni corpo è in grado di sviluppare questa particolare sostanza per lenire il suo dolore, ma soltanto Cresi G è in grado di controllare l'emanazione all'interno del corpo. Purtroppo questo soggetto ne è diventato dipendente, per questo l'esperimento è uscito fuori controllo. Il lottatore ha acquisito agilità, ha acquisito scatto, ma la sua rabbia si è trasformata in una totale pazzia incontrollabile. Ormai l'esperimento è stato abbandonato, ma i risultati sono stati eccellenti ed io li ho chiediati tutti. OGM è l'organismo geneticamente modificato, la forza del nucleare unita alla mutazione genetica. Quest'uomo è stato sottoposto a forti trattamenti di mutazione genetica ed ora è potentissimo. Ha una forza sovrumana, ma purtroppo anche questo esperimento è scappato al controllo. Tuttavia, i dati che ho acquisito su di lui sono così forti e così precisi che in pochissimo tempo sarei in grado di riprodurre geneticamente un organismo distruttivo e totale. AV1 L'ultima delle mie elaborazioni Un omuncolo semplice, esile, diventato grazie all'uso della biomeccanica un potente cyborg in grado di fermare due treni con la forza delle sue braccia. Lui è forte, lui ha acquisito potenza da robot, ha acquisito quasi poteri soprannaturali, ma purtroppo i sentimenti hanno vinto su di lui e mi ha tradito. Un maledetto che è scappato al mio controllo, un ennesimo esperimento fallito, ma ancora una volta il dottore di spiacere ha ottenuto tutte le risposte che cercava per la sua ricerca. Tanti esperimenti, tanti dati raccolti, il dottore di spiacere ha saputo metterli tutti da parte, rielaborarli e inventare la formula del resto del perfetto. Questa volta io saprò trasformare chiunque in un lottatore imbattibile e proprio per questo io desidero chiunque. Tu, uomo della strada, o qualsiasi lottatore di wrestling di questa federazione cella, può avvalersi del mio aiuto. Non c'è problema, io vi userò come cavia e farò di voi il lottatore definitivo. Non avrete più rimorsi, non avrete più nulla da temere, non avrete più niente per cui fallire. Voi sarete la distruzione perfetta, sarete il wrestling fatto a persona, sarete una cosa sola con la potenza, con la forza, con l'essenza di questa lotta. E lo sarete grazie al dottore di spiacere, a me.